Dopo aver festeggiato il Paradiso e tutti i santi, oggi la Chiesa ci dice fermatevi. Anzi, andate in pellegrinaggio ai vostri cimiteri per ricordare i vostri morti, coloro che vi hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. È importantissimo nella Chiesa questo, pensate che non c'è messa in cui non si ricorda, non si fa memoria dei defunti. E questo perché? Perché noi crediamo nella comunione dei santi e siamo un solo corpo, e un solo corpo in cui si condividono i beni, per cui noi possiamo collaborare con loro e loro possano collaborare con noi, in maniera che cosa? Attraverso la forma di collaborazione più profonda, che è quella della preghiera. Loro sono in cammino verso il Paradiso e noi li possiamo sostenere con la nostra preghiera verso questo cammino. Noi siamo nel pellegrinaggio terreno e loro con la loro preghiera ci sostengono. Lo credo profondamente, sapete. Per me non è indifferente sapere che in Paradiso mia padre, mia madre e mia sorella stanno pregando per me, stanno aspettandomi. È fondamentale. Ed è talmente importante questo che ogni nazione, ogni civiltà ha avuto il culto dei defunti. per cui anche noi oggi incamminiamoci verso i cimiteri, pregando per loro e ottenendo per loro la gioia della contemplazione piena di Dio. Buona giornata.